Perdonatemi, ma almeno per oggi dovete consentirmi di fumare. Fin dall'inizio. 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 È un male che viene commesso da uomini senza moventi, senza convinzioni, senza alcuna crudeltà o senza menti diaboliche. Perciò da esseri umani che si rifiutano principalmente di essere delle persone. È esattamente questo il fenomeno di cui ho scritto e che ho deciso di chiamare la banalità del male. Signora Arendt, credo che stia tralasciando la parte più importante della controversia. Lei ha affermato che sarebbero morti meno ebrei se i loro capi non avessero collaborato. Come saprete tutta questa faccenda è emersa durante il processo e ho dovuto giustamente chiarire il ruolo di quei capi ebraici che parteciparono alle attività di Adolf Eichmann. Lei sta incolpando il popolo ebraico della propria distruzione. Non è vero, io non ho mai incolpato il popolo ebraico. Resistere per noi era impossibile. Ma oggi posso dire che esiste la possibilità che ci sia qualcosa tra la resistenza e la cooperazione. Ed è unicamente per via di questo motivo che ho dichiarato che forse qualcuno dei nostri capi ebraici si sarebbe potuto comportare diversamente. Trovo che sia profondamente importante riflettere su questi argomenti perché il ruolo dei capi ebraici può essere estremamente utile a darci l'idea dello spaventoso e assoluto cedimento morale a cui i nazisti diedero vita nella rispettabile e tranquilla società europea. E questo non avvenne soltanto in Germania ma anche in tutti gli altri paesi. E soprattutto non avvenne solo tra i persecutori ma anche tra le vittime purtroppo. Sì? Ha detto che le persecuzioni erano contro gli ebrei. Allora come mai ha descritto i reati di Adolf Eichmann come crimini contro l'umanità? Perché anche gli ebrei sono esseri umani. E' questo lo status che i nazisti hanno cercato di negare. Un crimine perpetrato contro di loro è per definizione un crimine contro l'umanità. Anche io come certamente saprete sono ebrea e sono stata accusata di essere un'ebrea che odia se stessa o che desidera difendere i nazisti e disprezza fortemente il suo stesso popolo. Questo non può essere un argomento secondo me. Questa è un'accusa falsa e infamante. Io non ho mai scritto in difesa di Eichmann. Ho solo cercato di conciliare la scioccante mediocrità dell'essere umano con le sue azioni sconcertanti. Cercare di comprendere un concetto non è la stessa cosa che perdonare. Io credo che sia una mia responsabilità cercare di capire ed è la precisa responsabilità di chiunque abbia il coraggio di voler scrivere su questo argomento. Fin dai tempi di Socrate e Platone siamo soliti considerare il pensiero come quella conversazione, quel silenzioso dialogo che c'è tra me e me stesso. Rifiutando totalmente di essere una persona, Eichmann ha scelto di rinunciare completamente a quella che consideriamo l'unica e più peculiare qualità umana, quella di essere capaci di pensare. Di conseguenza non è più stato in grado di poter dare alcun giudizio morale. Questa sua incapacità di pensare ha dato la possibilità a molti dei cosiddetti esseri umani ordinari di commettere azioni riprovevoli su vasta scala mondiale, molte azioni che nessuno aveva visto prima. È vero. Io ho voluto considerare questi argomenti solo da un punto di vista filosofico. Sapete, la manifestazione del lieve vento del pensiero non è assolutamente la conoscenza, ma l'attitudine a discernere il bene dal male, la bellezza del mondo dalle sue brutture. E quindi voglio sperare che pensare possa donare alle persone la forza di saper prevenire terribili catastrofi in questi rari momenti in cui sopraggiunge la resa dei conti. Grazie. 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 Grazie.